Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il bassista trevigiano, raggiunto al telefono, risponde dal letto dell'ospedale. La voce di Red Kansian arriva così, flebile e provata, ma carica di energia, e spiega Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera. A gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni, e che il destino ha voluto togliermi. Non so perché, è andata così. L'ex componente dei Pooh, si è ritrovato a saltare la prima del musical Casanova Opera Pop, tratta dal romanzo Casanova. Gli spettatori in sala hanno potuto ascoltare il messaggio di Red Kansian, che ci ha tenuto a spiegare le motivazioni della sua assenza. Red Kansian era in un ospedale di Treviso, ricoverato d'urgenza a causa di una gravissima infezione cardiaca che ha sfiorato la setticemia. Ora pare che il peggio sia passato, ma con ogni probabilità, il musicista non potrà essere presente nemmeno al prossimo appuntamento di Casanova Opera Pop, fissata al Teatro Malibrand di Venezia, il 21 gennaio. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.